BELLA LE CHI DRAPA DICAMO QUI CON COD e lui il bello è che io potrò insultarlo durante la partita perchè non sente no no te sento te sento grazie al cazzo è molto sento te sento tu me senti io te sento ok vai allora siamo su COD si e siamo qui perchè io c'ho le cuffiette c'è caceno e perchè c'ho le cuffiette perchè sennò gioca del merda tanto gioca del merda vengo davvero una segnato toni non ce la fa a parlare siamo su COD e niente uno via si parte siamo su CISORI CONFERMATA se vedete che sono al 22 perchè ehm questo qui è il il coso io non riesco a parlare con la musica sotto dillo te eh in pratica è l'account dove facciamo i video tan 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 mamma mia primo sangue ah merda perchè non è mai vero che è il primo sangue però vabbè comunque è l'account dove facciamo i video perchè l'account dove giochiamo ovviamente è un altro perchè non ok 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 non vogliamo mischiare le due cose uno gioca per divertimento su un account mentre gioca per fare video sull'altro account perchè si sa quando fate i video si va a ritmo della notte mentre lui parla a ritmo della notte fai più cagare ovviamente che è brutto ho detto così però è vero ce l'hai tutti dietro io ti consigliavo di ricaricare ma vabbè non sta mai marta ci sua marta ci sua però si si perchè è marta non mi rompe il ca magari non spara così a buffo ah regà ma questi io sto stupidi c'è uno pure non lo so che ah c'ho l'airstorm ehm di la guarda che sto a fare ho preso uno due tre de christian che cazzo è successo quindi niente vabbè tutto a posto voi regà tutto bene che dite eeeh dio mio fermi tu detto rischio c'ho qualcosa c'ho una ricompensa o qualcosa detto rischio ragazzi allora adesso appena moriamo la lanciamo si ma io non ti direi di passare di qua né di la ma io lo faccio perchè io sono AgaB ah ti puoi fare più system lambarambaz passate da dietro piano un culo eeeh non fami ooo lequel ho visto eeeh Dietro 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 Metro che culo ce sto avendo porco due Ho finito i proiettili 12-1 Allora, c'ho il Tempest, c'ho un po' di tutto Ah, ma vaffanculo, potevo usare prima Il Talon, questo mi copre le spalle Sì, in effetti sì Non sapevo che era il Talon Oh mio Dio Bono così, a terra Perché non te fidavi a stare normalmente? No, potevo poter cadere Paura di cadere Ma voglia di volare No, se usavo il Tempest Ti potevo ammazzare tutti Ah, però ci ha pensato il Talon E Talon non l'hanno distrutto, però, sai? No, non è vero Non è mai vero Buono così Allora, io devo sempre attivare il Tempest Vai, Talon Ci ho sempre dietro il Talon Calcola che c'hai Z mid contro, quindi è molto easy Non ha già la matascaccia È vero Ma io voglio controllarlo il Talon, posso? Levate dal cazzo Calcola che quello era un nemico comunque Con levate dal cazzo Oh, sta carà, che devi fare? Oh, sta buono Allora, io devo fare una cosa Sbloccato Mirino Reflex Che è? Che è? Da sopra mi hanno sparato? È tipo l' bends Diciamo Mortacci però non me possono farsi spawn, regà Io ti consiglierei di non uscire No, forse Allora, no, devo fare così No, è una merda E' il cibo morto Perso così proprio Guarda che, guarda che sta a fa No, va bene, no Luca Forza Juve A Luca Forza Juve devi muovere male Ma vuoi quello Sì dai, dopo che hai fatto sta sculata, porco cane Ce l'hai, dietro Questa è colpa di Luca Forza Juve No, fai buono, fai buono Fermate finché non ce l'hai precisi ha capito che stavi qua BASSA TEE oCazzo che cazzo sarti te li abbassarla e no perchè c'è quella robura che s'assa la mira oh ya ho tutti tipo dietro mamma mia ma perché mentre ti giri i mili soldato mille ma ammazzol d'ho e il soldato numero mille eravu rotto il volo e e guarda un po e guarda un po' che mi sta a caca ah regala porco cane stava a fare una bella partita stava che cos'è? qui sto vedi Eh, lo so, lo so, però non mi piange, non ti preoccupare, non è successo niente. Ok, è finito, meno male. Finisce qui. Che è? Questo volava. Beh, su sto gioco si vola anche. Ma l'hai preso? Eh, ho si mirato. Hai preso proprio che fatti mirato male e finisci così. Finisci morto. Bello, ha preso la piastrina, grande. Sei un coglione. Che devo fare? Che sapevi che stavano là? Well. Era molto utile. Sì, sì. Per fatti spottare, mamma mia, quanti so, guarda, visto quanto... Non ti so, hai visto? Lo so, io c'ho la mira troppo bassa perché con quell'altra non riesco a mirare, quindi sì. Quindi mira basso. Niente colpi bassi. Beh, bello, sei riuscito a prendere nel tetto di quel coso. Sei riuscito a fogliare via pure la piastrina. Sta buono, però, fine giustifica i mezzi. Certo. Ricorda. Guarda come mori, guarda, guarda, 3, 2, 1. Ricorda, un giorno sprecato è un giorno che non ti riterà nessuno. Francesco Sole. Adà, mi spieghi tu cazzo, stai andando, scusa, eh. Così, tanto per sapere. Ma prende quello, posso prendere lui? Sì, e spagliano qua. Posso prendere questi due? Sì, guarda come mori, mo' però. Io lancerei lui avvia appena puoi. Guarda, questo t'ha despuntato? Questo ti sto di lancere lui avvia appena puoi. Vai, fate spawn kill. Terminator! Arriva. Arriva, regà, prendete la cinepresa, si gira un film qui. Sì. Non mi dico lo! Non puoi... Allora, in che giorno mi ha fatto la musica a inizio, poi ho detto, se lo rifai è finita, prendo un cortello e mi ammazzo, capito? Porca troia. Allora, brazzi, intomo. Bella partita, dai. È stata una partita carina. 30-16. Eh, quasi radio duro. Quasi 40, penso che faccio 43. Trentini. Qua 16, voglio. Allora, incredibile, questa partita è andata bene, nonostante il volume è alto e nonostante la pioggia fuori. Cazzo c'è? Ah, senti, a Roma ha pareggiato la Bologna per colpa della Bologna. Ah, io avrei potuto perdere questa partita. Sì, certo. Quindi, diciamola tutta, esatto. Se il pianeta Venere non fosse stato in Nettuno, magari Nettuno avrebbe vinto. Comunque, niente, noi ci becchiamo al prossimo video perché il video è bello e il YouTube no. Perciò, lasciate tanti like se vostra nonna è anziana. E se da piccoli siete stati bambini, chiudete questo video. Perciò, da Grana, se è tutto, bello. Ciao.